buongiorno cari amici amanti dell'italiano dalla vostra insegnante luisa e benvenuti al podcast numero 50 continuiamo con l'argomento pronomi vi prometto che abbiamo quasi finito abbiamo ancora oggi i pronomi alla forma tonica e la prossima settimana parleremo poi dei pronomi combinati e così abbiamo concluso il capitolo dei pronomi oggi appunto vorrei parlarvi dei pronomi diretti ed indiretti tutte e due nella forma tonica dunque pronomi indiretti abbiamo visto rispondono alla domanda a chi vem è il caso dativo e i pronomi diretti rispondono alla domanda chi che cosa ven vas caso accusativo ecco e fino adesso abbiamo visto tutti questi pronomi alla forma atona la forma tonica invece serve per dare più enfasi per sottolineare per dare più peso al pronome per rendere più forte un pronome in tedesco parliamo di betonte pronomen faccio un esempio per spiegarmi meglio se io dico lo chiamo uso un pronome diretto atono lo chiamo se però voglio sottolineare che chiamo proprio lui e non qualcun altro allora dirò chiamo lui perché con questo lui voglio dire che chiamo proprio una persona in particolare lui e non un altro vediamo adesso quali sono i pronomi tonici per il caso dativo però quindi i pronomi che rispondono alla domanda a chi vem pronomi indiretti vi dico prima il pronome in tedesco poi il pronome atono che abbiamo visto già nell'altro podcast e quello tonico cioè quello che vogliamo imparare in questo episodio quindi ripetiamo i pronomi tonici per dare maggiore peso per sottolineare questi pronomi a me a te a lui a lei a noi a voi a loro il dativo a come vedete la preposizione a sia davanti al pronome tonico sia davanti ad un nome proprio guardate la differenza tra queste frasi le scrivo una lettera ich schreibe ihr einen brief scrivo a maria una lettera ich schreibe maria einen brief scrivo a lei una lettera ich schreibe ihr einen brief quindi nella prima frase le scrivo una lettera ho usato un pronome per dire le scrivo una lettera è un pronome indiretto atono nella seconda frase non ho un pronome ma un nome proprio di persona scrivo a maria una lettera quindi per capire bene devo usare una preposizione prima del nome scrivo a maria senza la preposizione scrivo maria significa che scrivo il nome maria quindi avrebbe tutto un altro significato ich schreibe maria auf italienisch bedeutet ich schreibe den namen maria um deutlich zu machen dass ich maria einen brief schreibe muss ich die preposizione a benutzen scrivo a maria una lettera nella terza frase invece scrivo a lei una lettera voglio sottolineare che io scrivo una lettera proprio a maria e non ad antonella a piero o a qualcun altro quindi voglio sottolineare a chi scrivo a maria i pronomi tonici si trovano dopo il verbo come avete visto telefona a me e non a lui telefonire mit mir und nicht mit ihm il pronome è dopo invece avevamo visto che i pronomi atoni si trovano di solito di regola davanti al verbo lui dà il regalo a loro e non a noi er gibt ihnen und nicht uns das geschenk questi sono pronomi tonici e quindi vanno dopo il verbo i pronomi tonici si possono usare per fare domande senza dover ripetere il verbo mi piace la carbonara e a te mio schmeck di carbonara und dir quindi non ripeto mi piace la carbonara ti piace la carbonara potrei anche dire così però è una ripetizione quindi usando il pronome tonico posso evitare la ripetizione del verbo a me piacciono i libri di Camilleri e a te vedete che nella seconda domanda non uso non ripeto il verbo ricordatevi però che o si usa la forma tonica o la forma atona le due forme insieme sono una ripetizione ed è un errore si dice a me piace ballare oppure mi piace ballare ma non a me mi piace ballare questo è un errore che fanno tra l'altro anche tanti italiani vediamo ora i pronomi diretti tonici anche quindi i pronomi che rispondono alla domanda chi che cosa vi dico di nuovo il pronome in tedesco il pronome atono quello che abbiamo già imparato e poi il pronome tonico mich, mi, me, dich, ti, te in, es, lo, lui si, la, lei uns, ci, noi euch, vi, voi si, masculi in un plural li, loro si, femmini in un plural le, loro ripetiamo adesso solo i pronomi diretti tonici me, te lui, lei noi, voi loro posso dire ti cercano si suchen dich ma se voglio mettere più attenzione sulla persona che cercano allora dicono dico cerco te si suchen dich si suchen genau dich cercano te anche in questo caso trattandosi di pronomi tonici si trovano dopo il verbo i pronomi tonici si usano poi davanti a una preposizione vengo con te al cinema ich komme mit dir ins kino parlano di noi si sprechen über uns secondo me quindi sempre nel caso in cui abbiamo una preposizione dobbiamo usare un pronome tonico poi si usano in frasi come vi ho già detto senza verbo con chi stai parlando con lui mit wem sprichst du gerade mit ihm a chi telefoni a lei mit wem telefonierst du mit ihr oder wen rufst du an sie per esprimere il contrario di una frase già detta si possono anche usare i pronomi tonici ama me e non te er lieb mich und nicht dich quindi ama me e nella seconda parte della frase e non te non ripeto il verbo ama me e non ama te sarebbe una ripetizione posso evitare di ripetere il verbo con un pronome tonico scrivono a voi ma non a noi sie schreiben euch aber nicht uns a noi non serve ma a voi si wir brauchen das nicht aber ihr schon a noi non serve ma a voi si è interessante notare la posizione diversa dei pronomi nella lingua italiana e quella tedesca per i pronomi atoni quelli che abbiamo già imparato negli altri podcast abbiamo in italiano i pronomi prima del verbo mentre in tedesco sono dopo le do una lettera ich gebe ihr einen brief quindi nel caso in cui usiamo i pronomi atoni non i pronomi si trovano davanti al verbo nei pronomi tonici la posizione del pronome in italiano è dopo il verbo mentre in tedesco è prima povera me ich habe beato te du glücklicher quindi è proprio il contrario ecco questo era tutto per oggi rispetto per quanto riguarda i pronomi tonici anche per oggi basta grammatica vi ricordo che è possibile ricevere la trascrizione del podcast e anche alcuni esercizi aggiuntivi se vi iscrivete al mio podcast potete andare a vedere sulla mia pagina www.il-tedesco.it e trovate tutte le informazioni per diventare degli ascoltatori premium grazie mille per l'ascolto e buon lavoro e a risentirci al prossimo podcast ciao ciao dalla vostra insegnante di italiano luisa ciao ciao buongiorno cari ascoltatori siamo quasi arrivati al giubileo un anno fa nel marzo del 2020 ho cominciato a registrare questi podcast in italiano e per tutti quelli che amano l'italia e la lingua italiana i miei podcast sono e rimangono gratis con ogni episodio voglio aiutarvi ad imparare l'italiano e cerco di farvi una cosa gradita come potete capire però si tratta di molto lavoro ma sono contenta quando un episodio trova tanti ascoltatori se volete aiutarmi e far sì che gli episodi continuino potete regalarmi un caffè come ai vecchi tempi un caffè al banco per un euro andate sul link www.il-tedesco.it e cliccate in alto a destra sulla scritta blu spenden sie einen caffè grazie mille e ancora buon divertimento con l'ascolto dei nuovi episodi di Luisa's Learn Italian Podcast Hello dear listeners we have almost reached our anniversary one year ago in March 2020 I began to record my Italian podcasts and for everyone who loves Italy and the Italian language they will remain free of charge with every episode I hope to help you learn and improve your Italian so I also hope to bring you joy as you will understand it is a lot of work but I'm happy whenever an episode finds many listeners if you want to support me and contribute to my next work you can offer me a coffee just like the good old times when a coffee costs 1 euro you can visit my home page www.il-tedesco.it and click the blue button spenden sie einen caffè thanks a lot and enjoy the new episodes of Luisa's Learn Italian Podcast and see you next time and see you next time to see you next time Grazie a tutti.